Le baraccopoli Perché l'acqua non basta per tutti? Perché c'è tanta povertà nel mondo? Perché non danno lavoro a chi vive nelle baraccopoli? Perché la povertà invece di diminuire aumenta sempre di più? Perché il governo non aiuta le baraccopoli? Perché i politici non donano i propri soldi alle associazioni Caritas? Perché i poveri sono costretti a vendere droga? Perché non installano la corrente elettrica nelle baraccopoli? Perché nei paesi poveri raccolano il po' dobbio? Perché nei paesi poveri i papichi non possono andare a scuola? Perché nei paesi poveri il cibo non è sufficiente? Perché noi giovani non ci poniamo le domande sulle povertà? Perché noi giovani non ci poniamo le domande sulle povertà? Perché noi giovani non ci poniamo le domande sulle povertà? Perché noi abbiamo tra会llate diaisi attr isso orto la conoscenza car'